Non ho mai fatto sconti a nessuno ed ho arrestato numerosi criminali gelesi. Respingo le accuse davanti al GIP di Caltanissetta, il maresciallo Giovanni I arrestato l'unico discorso assieme ad altri tre colleghi e a cinque imprenditori locali nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla direzione distrattuale antimafia del capologo Nisseno e condotta dai militari del ROS il regrupamento operativo speciale. Il sotto ufficiale attualmente nel carcere militare di Santa Maria Capo Vetere ha fornito la propria versione dei fatti rimandando al mittende, in questo caso al collaboratore giustizia Emanuele Cascino, ex vedalissimo del clan di Giuseppe Alferi Uierro, tutte le imputazioni che gli sono state rivolte. Nessun aiuto alla mafia, detto il maresciallo Giovanni I, già comandante del nucleo radiomobile dei carabinieri di Gela e da alcuni anni in servizio a Comiso. Non ho mai avuto alcun tipo di rapporto con il crimine, anzi l'ho combattuto aspramente. Giovanni I è difeso dall'avvocato Flavio Sinatra. Nelle prossime ore saranno interrogati gli altri tre carabinieri finiti nell'occhio del ciclone ed attualmente ai domiciliari. Si tratta di Salvatore Gurrieri in servizio a Gela, Marco Sassone che presta servizio a Lampedusa ed Ernesto Licata D'Andrea da poco in pensione per sopraggiunti limiti di età. Oltre a quattro militari dell'arma i provvedimenti restrittivi firmati dal GIP di Caltanissetta hanno interessato l'imprenditore Orazio Spadaro, 80 anni, e la sua collaboratrice Franca Elena Carrera di 41. I fratelli Angelo e Giacomo D'Andrea di 37 e 48 anni ed un altro imprenditore di 56 anni di cui si conoscono soltanto le iniziali GC. Quest'ultimo ha l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I nove indagati a vario titolo devono rispondere di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dalle finalità mafiose, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio, accesso abusivo al sistema informativo, millantato credito, truffa ed altro. Tra gli episodi accertati nel corso dell'indagine figurano le attività estorsive consumate dal crano degli alferi ai danni di un imprenditore gelese, la corruzione dello stesso imprenditore, finito come dicevamo ai domiciliari, al fine di acquisire informazioni riservate mediante la visione di fascicoli d'ufficio e l'accesso abusivo alle banche dati. L'inchiesta ha fatto luce inoltre su un'attività di recupero crediti e di vigilanza ai beni aziendali in cambio di favori ed utilità economiche e false digrazioni testimoniali e millantati crediti nell'ambito di procedimenti penali che riguardavano sinistri stradali e vertenze di lavoro per agevolare l'acquisizione di certificazioni amministrative presso gli uffici giudiziari locali. Tra gli episodi finiti sotto la lente di ingrandimento degli investigatori c'è proprio un incidente stradale che coinvolse l'imprenditore Giacomo D'Andrea, in quel caso era il luglio del 2010, la posizione dell'investitore fu archiviata ma i fratelli D'Andrea si dedero da fare al fine di procurarsi testimoni falsi che poi furono sentiti proprio dal maresciallo Giovanni Primo. Grazie.